Sono stati i carabinieri di Pizzoli qualche ora dopo ad incastrare grazie alle immagini delle telecamere l'uomo che ha ucciso ieri sera dopo le 19 investendo l'Emilio Ciammetti, finanziere in pensione di 61 anni, molto conosciuto in città. Il responsabile a domiciliari è stato arrestato dai carabinieri qualche ora dopo, come si diceva, era a casa sua un uomo di 43 anni di barete, vc le iniziali, sottoposto ai test tossicologici, è risultato essere positivo, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Lo ha investito lasciandolo lì al bordo della strada, un urto che non ha lasciato scampo ad Emilio Ciammetti, nonostante la sua tempra e il suo fisico da Montanaro. Le immagini delle telecamere sono impressionanti, a quanto se ne sa si vede la macchina investire l'ex finanziere senza esitazioni, senza mai tornare indietro, ma anche altre macchine poi sarebbero passate di lì su quel tratto del cermone sulla 80, molto pericoloso, senza fermarsi e prestare soccorso, non si sa perché, disattenzione, pioggia e buio. Fatto sta che in poche ore gli investigatori sono riusciti a dare un nome e un volto al responsabile dell'incidente che guidava una BMW di colore scuro. Ciammetti probabilmente aveva messo benzina nel distributore di fronte e a piedi voleva andare al fioraio. Queste sono le ricostruzioni che sono state fatte, portare una mimosa alla moglie che lascia assieme a due figli. In quel fioraio però Ciammetti non c'è mai entrato. La morte di Emilio Ciammetti ha provocato moltissime reazioni in città per le modalità e perché lui in vita sua di persone invece ne aveva salvate soccorse tante in montagna, negli anni più belli del soccorso alpino della finanza, con i suoi pastori tedeschi che nell'Aquila prima del sismo a Piazzetta della Commenda venivano ammirati da tutti. Dopo la pensione si era dedicato agli animali, aveva anche dei cavalli, una persona buona così viene ricordata da tutti, travolta da un destino crudele, proprio lui che nella vita e nel lavoro mai aveva lasciato nessuno indietro. Gli amici raccontano oggi aneddoti e particolari che lo riguardano. Epica fu la sfida a braccio di ferro nel 95 a Raccaraso con il campione di sci Alberto Tomba.